Ciao, oggi siamo qui con Marco Broggi che ci spiegherà che cosa EA Electronic Arts ci presenta oggi. Oggi siamo qui per vedere i giochi del Natale di una delle tre divisioni di Electronic Arts. Electronic Arts ha tre divisioni, una EA Sport che fa tutti i titoli sportivi, una EA Games che fa i titoli più azione come Nifo Speedo, Medal of Honor e una che fa i titoli invece più casual o più familiari come Harry Potter, Monopoly, The Sims e quindi siamo qui per vedere questi titoli. Abbiamo visto qualche filmato, ora lo vediamo insieme. Grazie a tutti. 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 a tutti.